E siamo giunti allo spazio dedicato alla medicina e alla ricerca scientifica. Ci apprestiamo a un'iniziativa importantissima che debutta proprio domani. Una giornata di consulenze gratuite dedicate a varie patologie indirizzate a centinaia di pazienti. Gabriella Open Arms e ci spiega tutto il professor Massimiliano Scalvenzi che dirige l'unità operativa complessa della dermatologia clinica della Federico II. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Gabriella Open Arms è il titolo che avete dato a questa lodevole iniziativa per ricordare la professoressa Gabriella Fabrocini nel giorno proprio della sua nascita. Com'è nato questo progetto e dove si svolgerà? Allora, il progetto nasce perché noi vogliamo ricordare Gabriella, eravamo tutti molto affezionati a lei e domani lei avrebbe compiuto 59 anni ed era solito festeggiare con tutti noi sia nell'ambito della clinica ma anche all'esterno. Basta ricordare l'anno scorso aveva fatto un evento all'Ippodromo di Agnano dove tutti dovevamo essere vestiti di rosso e se non ci faceva entrare. Quindi abbiamo fatto questo evento sociale perché lei alla medicina sociale ci ha sempre molto creduto, quindi rivolta alle popolazioni più disagiate, più deboli. E quindi noi prendendo spunto da questo suo insegnamento abbiamo dovuto dedicare questa giornata a lei. Si svolgerà presso la clinica dermatologica dell'Università Federico II e come diceva lei giustamente ci sono consulenze, consulenze diciamo abbiamo dovuto chiudere poi a un certo momento le prenotazioni, consulenze gratuite, sì consulenze gratuite, anche per indirizzare poi le diverse patologie nei diversi settori che abbiamo nella nostra clinica e quindi si baserà la giornata in due momenti. Il primo momento è quello delle consulenze gratuite, abbiamo istituito sei ambulatori, delle patologie che più frequentemente osserviamo, quindi dall'acna, la psoriasi, la dermatita topica, ai melanomi, ai tumori cutani, alle malattie sessualmente trasmesse e quindi diciamo ci sarà tutta la squadra della clinica dermatologica a fare queste visite. Questo è il primo momento? Questo è il primo momento diciamo mattutino. Il secondo momento invece diciamo abbiamo fatto un piccolo corso ECM che è rivolto innanzitutto a tutti i nostri medici in formazione ma anche tutti i dermatologi del territorio dove ci sarà diciamo un incontro e un dibattito sulle diciamo più frequenti patologie su qualche diciamo novità anche che c'è e quindi questo sicuramente sarà un momento di crescita sia professionale ma anche personale. Quindi sei ambulatori attivi come lei ha ben detto per un impegno ovviamente importante di accoglienza, di consulenza, di informazione direi. Sì. La giornata sarà organizzata in due momenti ma oltre all'aspetto medico quali momenti ci saranno? Diciamo fondamentalmente è l'accoglienza. Allora diciamo Gabriella ci teneva sempre molto a vedere il paziente a 360 gradi e quindi mettere al centro la persona nella nostra pratica clinica quotidiana e non il paziente. Per cui noi diciamo in realtà lo accogliamo e lo indirizziamo cercando diciamo logicamente di fare il nostro meglio fino a portare alla risoluzione delle diverse patologie. Diciamolo, l'operato nello studio, nella ricerca, nell'attività medica della professoressa Fabrocini è tramandato sia in questo evento ma anche in un master a lei dedicato? Sì, questo è il secondo anno che c'è un master della malattia cutane infiammatoria e cronica dove si affrontano tutti appunto i diversi aspetti delle malattie dalla patogenesi alle terapie. Lei è sempre stata Gabriella una grossa stimolatrice da questo punto di vista quindi ha sempre soprattutto nei più giovani i medici di informazione o anche quei pochi medici, dirigenti medici che abbiamo nella nostra clinica a stimolarli. Perché lo stimolo ti porta a una crescita, la crescita ti porta a un impegno quindi diciamo è di fondamentale importanza far sì che questi diciamo giovani che saranno poi diciamo i medici professionisti del futuro abbiano una buona base diciamo di dermatologia clinica. Ecco in che modo terrete alta la memoria della cara professoressa Gabriella anche con quest'anno neonata realtà? Allora noi abbiamo sempre fatto molto insieme a lei soprattutto torno a ripetere nel sociale noi ogni anno abbiamo fatto delle giornate di screening gratuiti di visite dermatologiche non soltanto in sede ma anche sul territorio quindi ci siamo spostati dalla clinica e abbiamo coinvolto tutta la popolazione non abbiamo escluso assolutamente nessuno. E questo per diciamo insegnare anche alla persona che viene alla nostra osservazione la prevenzione che questo è di fondamentale importanza. Quindi paziente visto a 360 gradi non come paziente ma come persona. L'evoluzione della dermatologia sta portando grandi riscontri ma secondo lei vi è un'incidenza particolare dell'ambiente sulle malattie della pelle? Sicuramente oggi viviamo in un ambiente molto inquinato quindi la pelle è la prima barriera. Se uno torna a casa la sera e si passa un dito sulla fronte non dico che esce nera ma poco ci manca. Quindi questo sicuramente in alcune patologie prendiamo diciamo delle malattie seborroiche, della dermatite seborroica, all'acne che è una patologia particolarmente frequente sicuramente incide in maniera negativa. Questo sicuramente sì. Ecco ma ci sono delle evidenze scientifiche che si possono rilevare in merito a queste correlazioni? Ci sono studi in corso su queste correlazioni, non abbiamo ancora dei risultati chiari ma certamente se andiamo avanti così, diciamo l'aumento della CO2 a lunga andare, forse non lo sapremo oggi, lo sapremo fra dieci anni. Quello che può, ha potuto fare, diciamo lo fa su tutti gli organi interni ma non li vediamo, la pelle è un qualche cosa che si vede. Con protezioni, creme solari, quindi una buona abitudine in qualche modo per adottare e per tutelarsi in qualche modo e proteggersi. Noi cerchiamo di insegnare, diciamo, ai genitori, perché i genitori lo fanno con i bambini, ma se il bambino viene educato alla protezione solare, diciamo, se la porta avanti, quindi quando diventerà un giovane adulto e poi una persona, diciamo, adulta, continuerà a ammettere. La protezione solare sicuramente è di fondamentale importanza, non è l'unico fattore, l'ussione solare, ma sicuramente è uno dei fattori più importanti nella genesi dei tumori cutanei, sia melanoma, ma anche nel non melanoma, coso skin cancer. Ai nostri telespettatori che ci stanno seguendo diamo anche qualche suggerimento, qualche messaggio. Quali sono i campanelli d'allarme da non sottovalutare rispetto ai nei, rispetto ai problemi dermatologici in generale? Allora, noi quando visitiamo il paziente, perlomeno io e tutti quelli che lavorano con me, insegniamo un autoesame. Come la donna si fa la palpazione della mammella, noi diciamo, ogni 3-4 mesi, guardatevi, perché, dice, ma non riusciamo, è difficile, non ne ricordiamo. Allora, è stato dimostrato che se c'è una modificazione macroscopica, quindi che salta all'occhio, di forma, colore o dimensione, il soggetto se ne accorge. Quindi, in base anche al numero dei nei, alla familiarità, noi diciamo, una visita una volta all'anno dal dermatologo, un autocontrollo, una volta, un autocontrollo ogni 3-4 mesi, se vedi qualcosa che non va, ti fai vedere immediatamente. E quindi, diciamo, prevenzione. Questa è fondamentale. Ricordiamo anche insieme l'appuntamento, appunto, di domani con questa lodevole iniziativa, Gabriella's Open Arms, e noi la ringraziamo veramente per essere stato con noi stamattina a Mattina Live. Quindi ringraziamo ancora una volta il professor Massimiliano Scalvenzi, che dirige l'unità operativa complessa della dermatologia clinica della Federico II. E noi ci vediamo tra pochissimo, dopo un piccolo break. Io ringrazio. Grazie, grazie a voi.